Sigmund Freud, insieme a pochi altri, è stato uno dei grandi pensatori che ha influito con i suoi scritti e le sue idee su tutto il Novecento, tanto che non è errato, come da più parti si è detto, che il Novecento può essere definito come il secolo della psicoanalisi. In che consiste sostanzialmente l'influenza freudiana sulla cultura di un intero secolo? Sul fatto che attraverso il suo lavoro e le sue ricerche e le sue scoperte ha determinato una radicale innovazione nella concezione stessa della natura umana. Fino a Freud si era pensato che l'uomo avesse perlomeno il dominio della coscienza, che possedesse una ragione in grado di averla vinta sui fatti della vita, sulla realtà esterna. In realtà Freud ha dimostrato ampiamente che la nostra vita quotidiana, i nostri pensieri, le nostre azioni, i nostri desideri sono determinati molto più da fattori inconsapevoli che non da fattori consapevoli. Questo rovesciamento è stato ciò che Freud stesso ha definito come il terzo colpo inferto alla smisurata idea di sé che avevano gli uomini. Il primo colpo, essendo quello che è inferto Copernico, togliendo dal centro dell'universo la Terra e l'uomo suo abitante. Il secondo colpo lo ha inferto Darwin, inserendo a pieno titolo l'uomo all'interno della scala zoologica. Il terzo, appunto Freud, facendo capire che l'uomo non era padrone della sua ragione, ma che questa era ampiamente determinata dall'inconscio, territorio della psiche che lui si è incaricato in lunghi anni di lavoro di esplorare cercando di capirne le leggi di funzionamento.